Le vicende di tre coppie di sorelle, ambientate a Roma, Sarajevo e nella Tebe del Mito, in bilico tra quotidianità e tragedia, tra dolore e speranza, negli anni della guerra dei Balcani. È il libro Il resto e silenzio di Chiara Ingrao, presentato alla Passeri Nilandi. È un libro che avevo pubblicato alcuni anni fa, ispirato, un romanzo, ispirato alle vicende della guerra in Bosnia, dal punto di vista delle persone che l'hanno subita, dal punto di vista di un'italiana che accoglie un'amica fuggita dalla Bosnia, dal punto di vista del rapporto fra quella guerra e l'antico mito della guerra a Tebe e di Antigone. Quindi è un romanzo che mischia diversi livelli. Da una parte è un punto di vista sulla sofferenza, sull'umanità, dall'altra è anche uno sguardo capace di cogliere le assurdità della guerra e quindi uno sguardo non solo passivo di sofferenza ma anche attivo di critica alla guerra. Storie di donne costrette a vivere la guerra del loro tempo, epoche diverse ma accomunate dalla divisione forzata dai popoli. Il motivo per cui noi abbiamo riportato in libreria questo libro dopo tanti anni è proprio perché questo ritorno così tragico della guerra in Europa ha fatto riemergere dei temi che già c'erano nella guerra dei Balcani trent'anni fa e su cui forse abbiamo riflettuto troppo poco. Delle vicende umane, chi è costretto a fuggire dalla guerra, delle comunità lacerate. Insomma questo fatto che voler suddividere il mondo in questo modo crea lacerazioni e tragedie ritorna in un modo terribile e naturalmente il mio contributo è di un romanzo e quindi non è una proposta politica, è un approccio dal punto di vista delle emozioni e delle esperienze umane che però è fondamentale mantenere questo sguardo e non farsi accecare soltanto dallo scontro militare.